ma cosa hai trovato qui? aspetta 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 che vengo io aspetta via è già grosse guarda guarda dai prendersi c'è un nido di tupoli cosa c'è lì sotto? ehi prova di qua guarda perché mi tocca fare che la dolce aspetta che vengo io spostati spostati aspetta via resta lì resta resta dove vai? dove vai? poi proprio che la nell'indole pomo io faccio a far dentro tutto c'è un topo lì chi c'è? guarda va su tutto guarda aspetta aspetta che vengo io spostati via 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 ora via 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 guarda guarda che metto, devo tirarti fuori dopo, via da lì ha reso non basta mio, devo fare lo scavo dopo tirarti fuori, andiamo dai, bravo vieni con me, vieni aspetta guarda, guarda arres bravo, bravo dai, ehi, adesso basta dai, bravissimo, arres, dai che andiamo a mangiare qua cosina, arres ma no Vieni Ares, Ares, dai che qua, vieni, vieni, qua, Ares, qua, vieni, Ares, qua, vieni, Ares, ei, eccolo qua, ei, ma, mamma mia, basta, dai,